salve cari bambini buon natale oggi con voi non posso stare ma vi invio questo gran messaggio dice danilo so che sei bravo sia a scuola che nello sport continua così poi c'è beatrice un po birbantella anche tu sei brava e sei una stella ogni giorno di più a scuola e a casa adesso c'è edoardo un po capriccioso ma sta migliorando anche con il fratellino per francesco che è simpatico e dispettoso ma sempre con un gran sorriso infine la più piccola di col sempre sorridente solare adesso bambini vi devo salutare ma come io sempre controllo quel che fate durante tutto l'anno vorrei portarvi i regali che voi desiderate buon natale a voi ai vostri genitori e ai vostri simpatici nonni